Ciao a tutti, benvenuti su Master and Servant, io sono Ol e sto giocando un Succession Game con Frisia assieme a altri due canali amici che sono il canale di Ekudo, e per lui, per questo canale giocherà Jalinar e il canale di Lamente di Edux e essendo Edux il titolare del canale giocherà per il suo canale smetto di dire canale, a parte canale della manica io sono il terzo a ricevere il salvataggio, quindi il terzo a giocare, passerò il mio salvataggio a Edux non appena termineranno 4 mandati non so cosa è successo, sto giocando alla cieca come faranno i miei compagni, come hanno fatto i miei compagni perché avete già visto i video vi dico solo che i video che registrerò io saranno pubblicati sul canale di Master and Servant ma potrete vederli in una playlist presente sugli altri due canali, quindi avrete tre playlist, una per canale che mostreranno la stessa storia della Frisia e vi invito in ogni caso ad andare sul canale dei miei due compagni, iscrivervi, commentare, fare casino, spam, insomma, quello che volete mandare anche teste di cavallo nel letto al nostro caro Jalinar perché mi darà filo da torcere, anzi mi ha già dato filo da torcere in quanto ricevo da lui il salvataggio bando alle ciance cosa vedo all'inizio? vedo una Frisia bella estesa, sono contento e vedo che però non è il 1484 quindi è successo qualcosa, probabilmente uno dei suoi titolari della Repubblica è morto questo, come sapete, è una Repubblica abbiamo il Grand Pensionary Manfred Vilnia, che è il nuovo signorotto che ha, come vedete, 225 quindi è passato a un altro mandato infatti è entrato nel 75 e col passaggio di mandato ha ricevuto un punto per skill era militare, quindi hanno preso, quando è stato assunto, era 114 ed era militare benissimo adesso dobbiamo un po' gestire le cose, ma prima di fare questo vediamo un po' come siamo messi con le alleanze uh, bene, allora siamo alleati con la Danimarca che è mostruosa quindi dovremo sfruttare la Danimarca come piede di porco per mangiare gran parte della Germania e della zona della Frisia poi siamo alleati a Brandeburgo, ottima cosa e a Braunschweig, Brunswick e direi che ci siamo quindi abbiamo queste alleanze qui, andiamo a vedere clic allora siamo alleati, ma non siamo noi, questi siamo alleati con Danimarca, Brandeburgo, Brunswick e Mecklenburgo benissimo, che sarà da qualche parte questo qui, Bismarck bene, perfetto stiamo migliorando la nostra relazione con la Danimarca, cosa buona e giusta siamo in guerra con, siamo in tregua, scusate con Riga, Hamburgo, Lunenburgo e Dietmarschen quindi con quasi tutto qui attorno abbiamo un sacco di claim già fabbricati quindi magari iniziamo a vedere dove si può andare a fare la guerra in futuro, benissimo abbiamo tutti e tre gli slot degli advisor occupati quindi questi ci stanno mangiando un sacco di soldi infatti siamo a meno 22 qui sopra abbiamo un bilancio di meno 0,7 che dobbiamo regolare quindi ci converrà adesso vediamo se conviene fare una guerra facciamo una guerra tanto mi pare di essere siamo a posto come manpower e poi ci mettiamo un po' a fare soldi magari licenziamo qualcuno ma non è il momento forse spy network vedremo, vedremo i mercanti si è ammessi molto bene come navi ah, siamo sotto allora, come navi è il caso di alzare un pochettino il numero delle navi magari facciamo navi leggere per aumentare i guadagni ci serviranno guadagni per mantenere lo stato come truppe invece siamo 11 su 11 religione cattolica stabilità 2 di stabilità molto buono decisioni potremmo formare una nazione dacce olandese fra un bel po' però non è quello che vogliamo fare attualmente hanno già preso 2-3 missioni ottimo come idee siamo messi bene adesso andiamo a valutare questa cosa qui allora siamo indietro come amministrativa e diplomatiche questa è, se non sbaglio, militare quindi la prima cosa che facciamo è migliorare il morale delle armate la prossima è arrest-2 che mi piace parecchio quindi la teniamo lì ottimo, dai siamo già indebitati 47 questo sarà un piccolo problema cercheremo di coprirla con la prossima guerra vediamo un po' che guerra fare allora questa claim è in personal con la Burgundy ok quindi non al momento ma forse in futuro una bella botta al Burgundy magari se lascia Milano ce la facciamo vediamo un po' chi entrerebbe entrerebbe la Danimarca attenzione potremmo fare Milano però vedete qua ha tre vassalli personal union quindi sono in tanti e poi vabbè non abbiamo caso sbelli ma quello non è un grosso problema se attaccassimo invece i suoi pupilli ci sarebbe meno gente in giro ma non ci sarebbe la Danimarca questa è le Fianne il Brabant questa è un'altra cosa ancora meno questo sarebbe ottimale probabilmente se la Danimarca decidesse di partecipare Brunswick potrebbe partecipare se lo teniamo buono come cosa e poi abbiamo ah beh questa è Burgundy questa è Burgundy Burgundy chi c'è? basta? no ne avevo un'altra ah Liege che è l'alleato c'è qualcun altro qua secondo me eccolo qua l'Olanda dichiarando solo l'Olanda niente allora ce la teniamo buona va bene il claim che abbiamo Gerle è in tregua quindi non scusate no non è vero non è in tregua con noi se dichiarassi ah è alleata con Danimarca non si tocca Munster no Munster è interessante Brunswick S contro i noi benissimo mi piace questa è eh alleata con la Danimarca non si tocca per il momento e poi chi c'è qua? Dear Martian quasi quasi tregua e basta allora per il momento direi che Munster è ecco lei allora noi avremo vediamo un po' quanti siamo scusate questo episodio sarà un po' per rifarsi ma sono anche stato in pausa andiamo un po' avanti ma andiamo avanti il tempo per vedere che succede allora abbiamo detto che noi entraremo in guerra con 8000 più 11000 uomini ok forse nei rivali ce l'abbiamo già Munster 7000 più S a vedere quanti sono se sono sui 6-7000 si può fare si può fare si può fare qua abbiamo un sacco di notifiche sono tolto il diritto di accedere ok benissimo allora direi che si può fare togliamo le nostre unità dal drilling facciamo crescere di nuovo il morale quindi via che è successo? eh lo so ragazzi guadagniamo 20 ducati ok qua ci sono dei casini a sistemare poi disloyal chi un bel po' di persone un bel po' di persone allora potremmo fare non possiamo neanche fare una donazione in realtà per tenerseli buoni questo è già fatta è un bel casino un bel casino potremmo dare e niente dobbiamo aspettare c'è un po' un casino in corso c'è un po' di rischio però lo cogliamo poi ci mettiamo in pensione per un po' vai tu vieni su io intanto mi preparo ok la provenza è stata scomunicata noi entriamo con take mappen ok ci siamo forse no forse si benissimo direi che possiamo sfruttare i nostri alleati e partire con la prima guerra del mio corso tac tac mappen vediamo un po' loro chi sono questi S dove sta dov'è S dove sei S io non ti vedo non lo vedo ma dovrebbe essere da qualche parte qua ah beh non è ancora entrato in guerra chiaramente no è entrato in guerra dove stai? ah qua 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 e qua benissimo dai se fa via abbasso un po' la velocità questi qua sono di brunswick papafaf aspetto che arrivino me li carico in spalla merda va bene mandiamoli sul ok andiamo a prendere il controllo buttiamo giù subito la loro capitale vediamo che succede questo è austriaco che vuole? che vuoi? che vuoi? dove sei? allora c'è S qui aumentiamo un filino la velocità abbiamo un po' di attrition è dovuta all'assedio quindi va bene non so questi brunswick bravissimi venite su no cleves devo ancora capire quali sono i loro colori chiaramente le mie otto navi le mie otto navi sono qua che belline e sono militari lasciamoli lì intanto non c'è nessuno nel mare vai vai che succede? allora potremmo avere un claim su Oia perdendo però no vabbè sì c'è l'alternativa e la stabilità così Oia del nostro alleato del nostro attuale alleato ma probabilmente non futuro alleato mentre aspettiamo che l'assedio cada io vorrei mappen me lo daresti sì mi daresti tutto no tutto non lo voglio voglio del denaro un sacco così un po' di più magari vediamo un po' altrimenti altrimenti cosa potremmo fare potremmo chiedere di diventare il nostro vassallo perché è un vassallo ah beh non ho prendiamo meppen va e ci limitiamo a quello che altro potremmo chiedere steer trade trade power ok allora clear vogliamo sicuramente meppen poi trade power non me lo darebbe steer trade nemmeno war rap sì 10 dell'income però l'income è minimo voglio un po' più spingere un po' perché io non ho modo di sapere qual è il loro income è vero? assolutamente no da qualche parte magari no dai va bene allora chiudiamo la guerra prendiamo solo mappen booster ce lo teniamo per dopo la loro capitale questo ci dà un po' di aggressive expansion ma non troppo non abbiamo problemi grossi give up claim in frisland no che facciano e niente basta andiamo così chiediamo denaro e un territorio ok guarda finita benissimo mappen è diventato nostro aumentiamo aumentiamo un pochettino il beh insomma abbiamo abbiamo recuperato qualcosina qualcosina allora core make core ottimo non abbiamo rivali ce li facciamo fra pochissimo abbiamo delle degli investimenti le loan allora per le loan dato che abbiamo un balance bello alto ci converrebbe iniziare a ragionare cos'è questo ah carino questa cosa qua non abbiamo forti quindi niente da fare l'unica cosa che mi verrebbe c'è da dire di fare a meno dei ribelli che sono su brema che è qua quindi ci mandiamo all'esercito è quello di abbassare un pochettino i costi del militare quindi non facciamo drill per il momento abbassiamo questo vai così abbiamo un filo di guadagno e iniziamo a mettere a posto i conti la sassogna ma guarda la sassogna è un imperatore ce ne fottiamo che venga a dirci qualcosa poi vediamo un po' allora nel mentre abbiamo questo qua che sta sistemando relazioni e ci va bene iniziamo a fare continuiamo a fare dei claim direi e non mi dispiacerebbe fare qualche claim in burgundy perché se sono collegati e se riusciamo magari a infilarci nel mezzo alla burgundy che è in guerra in questo momento contro tutti ok burgundy sta intanto si sta rimpicciolendo che succede che succede allora otteniamo 48 ducati e abbiamo un national tax modifier meno 15 però non va bene nobility allora guadagniamo stabilità ok io ho un grosso problema con la nobiltà che al diet tiriamo su un po' sta situazione ma che è meglio poi magari gli diamo qualche territorio quando l'influenza cessa un filino perché c'è il problema dei ceti non leali ok se partissi in monster 13 anni mi preoccupano di più quindi mandiamo la gente a meppen allora stavo dicendo e poi chiudiamo perché siamo arrivati quasi al nostro al termine della partita se con chi siamo ah beh siamo in target allies con Brandeburgo vieni qua che ho bisogno di fare dei conti ok allora se facessimo guerra ora avremmo ancora Milano e tutti la Dinamarca sarebbe il caso migliore se però riusciamo a buttare fuori dalla guerra Milano siamo in una botte di ferro e quasi quasi possiamo fare una guerra perché qua sono veramente grossi allora accesso militare assolutamente sì 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 vai tranquilli nei prossimi episodi cercherò di andare un filino più veloce fermi allora ripaghiamo le loan paghiamo di nuovo andiamo sotto grazie però almeno è rinnovata e la pagheremo fra poco ok direi che ci siamo ho fermi tutti colto arms bruswick ci chiama in guerra contro magbleburg brandeburgo s mi piace e credo accetterò lo faccio però nel prossimo episodio quindi io vi ringrazio di aver seguito questo primo video che è stato un po' più lento ma dovevo capire un po' dove andrà a parare chiaramente e spero mi capiate e abbiamo ancora davanti 17 anni di gioco e 4 mandati uno ho già iniziato chiaramente e vedremo di fare guerre a più non posso perché è quello che il mondo chiede a noi ed espanderci un pochettino ciao ragazzi grazie mille grazie mille